buongiorno fratellino buongiorno e nutria che oramai ti chiedo che fai perché tanto so che stai dormendo e vabbè core mio e se stanno facendo così evidentemente hanno dei buoni motivi perché ovviamente vedono che ci sono dei buoni risultati io non so se domani riusciremo comunque a fare la come si dice la a fare questo intervento insomma che mettere questa fistula per per iniziare la dialisi anche perché alla fine dobbiamo iniziare il cuore perché se no non ce ne usciamo più va bene ma l'importante che stai sereno cuore mio vediamo un po andiamo avanti sempre con quella forza quella tenacia e quella voglia di farcela considera che il sogno è bellissimo e proprio rispecchia il tuo essere questa questa tua voglia di questa forza che ha insomma questa forza di farcela questo rappresenta il sogno questo mare grandioso questa potenza del mare ecco diciamo che hai sognato te stesso e di questo è bellissimo sapere di avere un fratellino così forte mi mi incoraggia mi fa diventare forte anche a me mi dai quella forza impressionante dovrei essere io a dartela è vero tu mi insegni tanto cioè questo tuo carattere bello tosto che di tuo cuore è ed è insegnamento a tante persone cioè veramente va bene cuore dai non ti tengo più di tanto perché non voglio farti video lunghi perché se no non ce la fai a leggerli c'è più che altro ad ascoltarli e niente e ci sentiamo dopo ti do un bacio un cuore e un abbraccio forte forte va bene cuore mio beh mi raccomando aggiornami se possibile di qualche dato vedi tu come come se riesci insomma ok ciao cuore a dopo